La chichetta trasporti è specializzata nel trasporto del farmaceutico in tutta Europa e non solo in Europa. Siamo anche dei paesi come Georgia, Iran, Turchia, Marocco, Russia. È composta da 110 trattori stradali e 160 semi di monti. Sono molto legato all'attività di autista perché comunque io ho fatto 13 anni di autista e quindi tutti i sacrifici che vengono fatti da questi ragazzi in giro per tutta Europa e non solo per me è una cosa importante, sono molto sensibile a questa cosa quindi cerco di ordinare i veicoli in camio, di prendere i camion innanzitutto più sicuri, per il massimo delle sicurezze e poi soprattutto anche comfort e quant'altro come se dovesse essere un camion per me. Scania è da un anno giusto che abbiamo fatto i primi ordini, abbiamo scelto Scania perché comunque la parola Scania comunque già del suo è qualità perché abbiamo avuto degli incontri iniziali con la famiglia Rossi quindi con la concessionaria di Padova e sono delle persone straordinarie e ad oggi probabilmente una delle migliori concessionarie che abbiamo mai avuto a che fare. La cosa più sorprendente sono i consumi che sono al momento i più buoni sul mercato. Rispetto ai competitor abbiamo un aumento del chilometraggio per litro, è il veicolo che consuma meno nella nostra flotta, questo grazie al lavoro importante che è stato fatto sicuramente dall'ingegnere della Scania. Devo ringraziare anche Sandro Martello che prima all'inizio è una formazione proprio tu per tu e poi durante fine settimana oppure all'inizio settimana quando esce la lista dei consumi e comunica con gli autisti telefonicamente e fa capire dove possono migliorare, dove non possono migliorare per far sì che i consumi siano ancora più buoni. A livello di comfort per l'autista dicono perché io per fortuna mia non l'ho mai provato dicono che è veramente molto confortevole e sicuro e per me è il più bello il veicolo che ci sia nelle strade d'Europa. Ad oggi attualmente targati ne abbiamo 23 e a breve non mancheranno altri ordini sicuramente. Per noi di Inter Scania è un piacere lavorare con Figiato che ha scelto Scania per fare il trasporto di tante cose importanti come il vaccino del Covid che tutti noi speriamo. Per noi è una responsabilità ma anche è una riconoscenza di avere le Marchi Scania in questo lavoro così importante. Figiato Trasporti è un'azienda che chiede qualità, investe tantissimo sulla qualità dei mezzi, molto esigente rispetto all'efficienza operativa, l'economia di questi mezzi. Ci tiene tantissimo e ci teniamo a sottolinearlo alla qualità di vita anche dei propri autisti, del proprio personale. ha scelto veramente il top, il meglio che Scania può offrire, il top che c'è sul mercato dei veicoli industriali per cui è un onore per noi come Scania iniziare questa partnership che siamo certi sarà una partnership di lungo termine.